Cosa significa vivere con la dermatita atopica? Qual è l'impatto di questa patologia sulla qualità di vita delle persone che le sono colpite? E infine cosa è cambiato con l'arrivo dei nuovi farmaci? Lo abbiamo chiesto a chi questi problemi li vive e li conosce ogni giorno a Mario Picozza, presidente di Andea, l'associazione nazionale dermatita atopica. Lo abbiamo incontrato qui a Roma nel corso di un evento incentrato su questa patologia organizzato da FB e associati con il supporto non condizionante di Leofarma. Mario nella tua reazione di oggi c'è un dato che mi ha veramente molto colpito cioè quando è stato chiesto a un panel molto ampio di persone con dermatita atopica chiaramente nelle forme gravi quanto della loro vita sarebbero disposti a rinunciare pur di non aver la malattia il dato che è emerso è un dato veramente eclatante. Quant'è Mario? Si gira intorno al 20 per cento. Il 20 per cento di quello che gli rimane da vivere lo darebbero in cambio della salute della loro pelle. Che è un dato pazzesco perché uno magari lo collegherebbe a delle patologie molto più gravi sicuramente a patologie mortali. Come mai c'è questo trade off cosiddetto questo scambio così diciamo forte a favore della vita sana? Come mai si potrebbe rinunciare a un quinto della propria vita pur di avere i restanti quattro quinti senza la dermatita atopica? Questo è a causa dell'impatto veramente molto forte che la dermatita atopica ha nei confronti della vita di tutti i giorni delle persone non soltanto della qualità della loro vita ma anche del dolore, del plurito, della loro capacità di stare al mondo, di accudire i figli quando sono genitori, di imparare quando sono bambini e questo fa sì che le persone con dermatita atopica soffrano così tanto per questa patologia che è una patologia appunto invalidante che sarebbero disposti a fare davvero carte false pur di stare bene o meglio sarebbero disposti anche a dare una parte di quello che gli rimane da vivere. Senti questo dato è solo diciamo così uno dei tanti elementi che avete racconto nel corso di un'indagine globale che ha visto impegnate la maggior parte dell'associazione di pazienti con dermatita atopica. Ci racconti un po' cosa è stato fatto e quali sono i risultati principali? Questa iniziativa è stata portata avanti sotto il coordinamento di un'associazione americana che ha coinvolto appunto altre otto organizzazioni, otto associazioni da tutto il mondo, dall'Oceania, dagli Stati Uniti, passando per la Germania, la Francia ad esempio e l'Italia. Ha coinvolto quindi diciamo nazioni diverse, popolazioni di persone diverse che si sono trovate poi a fare anche il punto su quella che era la loro esperienza individuale in quanto vivono e magari fruiscono dei servizi sanitari, ognuno è in posti in cui il sistema sanitario è molto differente uno dall'altro e appunto sotto la guida di Global Parents for XMA Research siamo riusciti ad avere un po' la situazione anche differenziale, il quadro differenziale della situazione nei vari paesi, ok? E in realtà molti score, i risultati erano molto simili tra le nazioni, tranne ad esempio uno, in Italia l'ansia e la depressione rappresentavano il maggior burden, il maggior peso per le persone per quanto riguardava la loro consapevolezza sulla loro salute mentale, o meglio il loro benessere mentale. Ecco quando gli veniva detto per il tuo benessere mentale qual è la cosa che impatta di più? Ansia e depressione. Questo cosa significa? Il corollario qual è? Già lo sappiamo anche da altre indagini che abbiamo fatto e che sono state fatte anche a livello internazionale, che la persona con dermatina topica molto spesso diventa depressa, quando non trova una giusta terapia, quando non trova un giusto approccio clinico di cura, diventa depressa. Molto spesso assistiamo a auto isolamento da parte delle persone con dermatina topica e assistiamo anche, come dire, a fenomeni come quello che abbiamo raccontato in questi anni di pandemia e lockdown, nei quali i bambini con dermatina topica in qualche caso erano sollevati nel poter rimanere a casa piuttosto che andare a scuola. Questo è un dato davvero che fa riflettere. Senti, ecco, ma quello che ci hai raccontato è la situazione di oggi, il panorama di oggi oppure è il panorama in fondo di ieri o dell'altro ieri? Nel senso che i nuovi farmaci che sono arrivati, che ormai cominciano ad essere numerosi, non stanno un po' cambiando questo stato di cose anche in maniera importante, non stanno migliorando significativamente la qualità di vita delle persone con dermatina topica. Certo, certo. I farmaci ai quali possiamo avere accesso sono più di uno, diventeranno anche di più e sono sicuramente dei presidi che aiutano, o meglio, in molti casi riescono proprio del tutto a far tornare la vita di una persona con dermatina topica a una vita normale, una vita degna, una vita dignitosa, una vita senza più quel prurito che la disturbava. Ora c'è da dire che ancora molto va fatto, c'è una questione che riguarda la risposta individuale chiaramente alle terapie, quindi ciò che può andar bene per un individuo non può andar bene per un altro e quindi in questo, ecco, un'ottica di medicina personalizzata potrà fare la differenza anche perché abbiamo a disposizione più farmaci e magari con dei principi, con dei meccanismi di azione anche diversi tra di loro. È importante però una cosa che io ci tengo, è un messaggio da dare alle persone con dermatina topica, andate dallo specialista, trovate un centro, possibilmente un centro ospedaliero che vi possa indicare qualora voi foste elegibili qual è la miglior terapia per voi, per stare bene, si può stare bene e dobbiamo stare bene. Insomma non si devono rassegnare perché forse era quello che hanno fatto fino a poco tempo fa in assenza di soluzioni, bisogna essere attivi, giusto, proattivi. Certo, bisogna essere proattivi sapendo che esistono delle soluzioni, bisogna andarsene un po' a cercare, ecco queste non arriveranno mai a casa sul nostro divano mentre piangiamo per noi stessi ma dobbiamo proattivamente andarcele a cercare, andare dallo specialista, ripeto, andare in un centro specialistico che ci possa appunto essere d'aiuto e inquadrare clinicamente. In questo lavoro di informazione di consapevolezza Andèa, l'associazione che tu presiedi, ha un ruolo molto importante. Ecco ci dici in estrema sintesi un po' quello che fate a favore di questi malati? Beh innanzitutto rispondiamo al numero verde e diamo consigli non soltanto appunto su stili di vita che possono aiutare e su consuetudine routine quotidiane che possono aiutare magari nei casi lievi il bambino piuttosto che l'adulto a far sì che la dermatite pesi relativamente per quanto riguarda la sua qualità di vita e la sua salute. E poi siamo attivi anche nel indirizzare le persone verso una giusta presa in carico, intanto verso un centro vicino a loro, quindi che possa aiutarli per questa prima parte del percorso di cura, che intanto è trovare una diagnosi, ok? Spesso le persone ci chiamano e ci chiedono cosa hanno. Noi non possiamo dare una risposta, però possiamo dire quali sono i clinici, i posti in cui avere una risposta per questa domanda. Cosa ho? Perché da un certo momento in poi sto male? Cosa mi è successo? Cosa ha cambiato nella mia vita? A volte nelle persone c'è anche questo fattore che può essere, sembrerebbe banale, ma siccome la dermatite atopica può iniziare, a comparire, diciamo così, non è che uno ci nasce, ma a un certo punto inizia a colpirci duramente e allora magari un genitore che dice, ma cosa ho cambiato? Lo lavo? Lavo mio figlio con un detergente sbagliato? Ho cambiato casa per cui i muri sono fatti male? C'è umidità? Ci sono le muffe? C'è qualche problematica? Oppure quindi ci si dà anche in qualche modo una colpa per una malattia che probabilmente non ha una causa diretta, cioè io tolgo la causa, ho tolto la malattia, ma in qualche modo, come tante malattie croniche, è una malattia anche dovuta alla nostra costituzione, appunto, l'atopia, che è secondo me anche un valore, può essere un valore, perché significa anche sensibilità, che non è soltanto una sensibilità nei confronti, diciamo, del mondo esterno chimicamente, del mondo esterno magari, ma è anche, soprattutto, secondo me, una sensibilità nei confronti di quello che ci circonda, è un'empatia. Ecco, forse noi persone con dermatite topica siamo un po' troppo empatici.